Tra noi lavoratori c'è grande solidarietà e noi non siamo mai stati in contrapposizione con i nostri colleghi, nel modo più assoluto. Pertanto la provocazione fatta dall'amministratore delegato della Fiat Marchion è quella di dire prendo i 19 perché c'è una sentenza che me lo ordina e voglio ricordare a tutti che quella sentenza condanna Marchion per discriminazione e la discriminazione è reale e palese, pertanto noi non accetteremo né ora né mai questa contrapposizione tra noi lavoratori e la rispingeremo al mittente, questa provocazione la contrasteremo con tutte le forme che abbiamo a disposizione e con tutti i sistemi. Innanzitutto è stato un gesto inaccettabile e la sua prima risposta scomposta e rabbiosa quindi di rappresaglia nei confronti del Tribunale di Roma che in secondo grado lo condanna per discriminazione nei confronti degli iscritti alla FIOMCGL. C'è unità nel sindacato? Diciamo che quando è successa la questione dell'accordo sottoposto al referendum lì si sono avute delle divergenze. Le divergenze si sono acuite perché c'è stato delle diverse posizioni e invece di ricomporre la frattura qualcuno ha deciso di seguire Marchion senza sì e senza ma. La CGL cosa pensa di fare per difendere questi 19 posti di lavoro? Noi abbiamo dall'inizio detto che per non contrapporre gli uni agli altri era necessario fare entrare tutti in FIP e poi applicare il contratto di solidarietà a qualche altro ammortizzatore che potesse in modo solidale affrontare la crisi. Naturalmente abbiamo fatto anche un comunicato dicendo e garantendo a chi nell'eventualità fosse licenziato e io mi auguro ancora che Marchion non arrivi a questa conclusione che chiunque verrà licenziato sarà comunque dalla FIOM tutelato se ce lo chiederà. Come azione sindacale il 14 novembre il segretario generale Landini ha deciso che la manifestazione viene fatta qui a Pomigliano perché non è accettabile quello che Marchion ha messo in campo. Marchion come qualsiasi cittadino deve poter rispettare la Costituzione, le leggi, lo statuto dei lavoratori e a questo punto anche la sentenza della magistratura. Alle sue spalle c'è quel cartello che dice noi siamo quello che facciamo, cartello Marchiato Fiat. Voi siete macchine? Ma diciamo che le nuove organizzazioni del lavoro ci vorrebbero delle protesi mentre noi siamo persone con alto professionalità e con alto senso di responsabilità che vogliamo produrre macchine, macchine innovative ma nel rispetto delle leggi e dei contratti e della Costituzione del Paese dove si producono. Il Tribunale vi ha fatto vincitori. Ora con questa mossa dell'amministratore delegato rischiate di entrare non più da vincitori dentro la fabbrica? Io sinceramente mi sottraggo da questa domanda per un semplice motivo. Marchion ha voluto fare questa operazione che io definisco di distrazione di massa per nascondere ben altro, cioè per nascondere l'assenza della politica industriale di fabbrica Italia che tra l'altro ha detto lui stesso che non c'è più in questo Paese. Questa affermazione dell'amministratore delegato, se non lei è stata una scivolata, una sbandata? No, assolutamente. Io credo che in Fiat non si faccia niente e nulla a caso. La Fiat è una grandissima azienda che studia scientificamente quasi tutto. Probabilmente in questa ultima situazione o come negli ultimi tempi penso che il dottor Marchionne sia consigliato male. La Fiat io penso che sia in grave ritardo. La verità è che sono scelte, come dice giustamente il dottor Marchionne, sono scelte del management di fare o non fare o di lanciare un prodotto. La verità è che se tu perdi terreno e dall'inizio di mettere la penna su carta per un inizio di un nuovo modello e l'uscita dalla catena di montaggio occorrono tre anni. E oggi nel gran parte degli stabilimenti tre anni di ammortizzatori sociali non ci sono. Noi siamo personalmente degli operai, dei malati terminali, diciamo da un punto di vista industriale che abbiamo presto a poco 8 mesi di vita, tra virgolette. Quindi chiunque ci voglia proporre un qualcosa che si lanci dopo il 2016 o è in malafede oppure non sa cosa dice perché gli ammortizzatori sociali stanno scadendo in tantissimi stabilimenti.